I numeri di Maia della sera per la prossima stagione ve li facciamo vedere subito. Il 6 a Giannelli, il 7 a Verrera, l'8 a Rikliczki, il 9 al Capitano Leon, il 10 a Piccinelli, l'11 a Sole, il 12 a Russo e il 13 a Colaci. Tutte conferme, c'è la novità di Herrera che ha preso il 7. Poi il 15 va al nuovo Gualberto, il 16 al polacco Semenuk, il 17 conferma Plotnitski e il 20 a Ropre. Questo è il roster.